Federico, tu sei di Reggio Emilia, sei qui con un altro gruppo di giovani di Libera per fare questa azione di volontariato? Sì, esatto. Siamo venuti da Reggio Emilia, siamo un gruppo scout e veniamo a questo campo di Libera a Crotone per fare una serie di attività che ci vengono proposte. È la prima volta che venite a Crotone? È la prima volta. Che cosa avete visto di questa città e che cosa ve ne sembra? Molto interessante, è una realtà alla quale forse non eravamo preparati, forse diversa da come ce l'aspettavamo, tra i suoi contrasti, realtà difficili, complesse, ma allo stesso tempo ha una grande apertura di cuore delle persone, belle relazioni, una bella accoglienza. Voi siete sempre disponibili per fare un volontariato concreto? Ci proviamo. Che significa ci proviamo? Lo fate? Siete qui per questo? Eh certo, siamo qui per questo, quindi quando possibile in mezzo al lavoro, allo studio e all'altra cosa cerchiamo di renderci utili. Giovani che sono responsabili e soprattutto sono giovani che hanno quel senso di amore per quello che è il volontariato e quello che significa anche aiutare chi è in difficoltà. Sì, diciamo che nel percorso scout questo è uno degli obiettivi, sensibilizzare a quella che è anche una politica, una dimensione sociale, culturale, che quindi spinge ad aprirsi verso l'altro e verso l'amore per il prossimo. Questo è un po' l'obiettivo educativo che abbiamo.